ciao a tutti ragazzi sono teoria Lemo e benvenuti in questo nuovo video Reaction oggi sono qua per fare Reaction alle animazioni Disney le 45 i 45 magici castelli disney siamo pronti invece riesco da cam via wow pensate che abbiamo iniziato così e questo quasi al 1985 scusate ma ora che d'ora devo stare a un tiro no non ancora eccomi tornato eccomi tornato a ripartire a capo intanto no anche questa che bellissima wow una più bella dell'altra ragazzi considerate che è passato del tempo 2001 2001 ora che sta con particolare molto simpatica 2002 questo qui non mi piace tanto ma questo castello super magico all this made wow bella dell'altro devo dire che sono anche romanzi 2003 wow disney bellissimi top che raggio molto simpatico quello meno che fa tazzo ok il castello è stato battuto 2004 questa persona particolare che si insegna world disney questa per natale bellissima questa bellissima complimenti continuati che qui la preferite 2005 ecco sono il telefono tanto per cambiare wow anche questa qua si sta si sta la realtà si sta bella bella 26 anche questa qui è molto affascinante devo dire wow pochi d'artificio fantastici world disney i messaggi anche questa qui ragazzi mi ricordo tanto non lo spero la salizione infatti vedete vedete ho ragione 2007 2008 disney pizza o bellissima ragazzi che animazioni top 2010 credo che la scrittura di walt disney veramente molto simpatico vestire fotografie addirittura 2011 devo dire che sono tutte molto carine devo dire guardi nei pixar pittura scusate qui un'altra atmosfera addirittura questo non è piace tantissimo devo dire 2012 o quali lettura con una sfonda oscura certo che chi ha inventato queste animazioni è un grande dover commesso come sono belle ci sta questo questo è molto particolare presenta guardi si è presente a 2013 sempre questa qui ma non mi convince sono già sette minuti 2014 anche questa qui è molto interessante affascinante bravo questa castello qua è presa da un'ambientazione differente sempre 2014 vuoi che castello fa vedere proprio come è cambiato nel corso degli anni ci sta chi sta grazie a tutti 2 mila 16 si vede si vede comunque che la grafica è cambiata non poco disney c'è anche questa cittadina dire che al suo è anche questa qui sembrava natalizia si sembrava non c'è anche questa qui bella 2017 di stati anche questa qui è il suo fascino è 2018 questo è bellissimo sempre che nel 18 cambia sempre ste castelli sono sempre più belli che altre in 2018 ha fatto che non li proviressi ora si stiamo con il 2019 se anche 2018 wow che bello ragazze in testa durato se anche 2018 però devo dire ne ha fatti qua con la strada che porta il castello wow mamma mia ragazzi 2019 2019 fantastico che si fa sono quelli che abbiamo noi oggi sono bellissimi eccolo poi insegna eccomi eccomi ragazzi questo è il primo logo uno dei primi logo meglio non so se capite uno dei primi un bianco e nero ancora pensate voi colombia produzione però qui non ci sono solle date non ci sono solle date qua purtroppo colombia che bella che sono 7 minuti che stupendo si vede che diventa sempre più bello adesso sta acquisendo colore tutti si intanto wow bellissimi colombia questo però un pochettino nervoso siamo due minuti siamo però intanto stiamo vedendo che sta facendo passi avanti anche lui anche questo è l'oro sono ancora le mosche tre volte anche il particolare questo questo simbolo ci ripresa questa c'è ripresa cento c'è mia mamma che continua passare nello sfondo vieni qua vieni qua vieni qua no eccoti qua ciao a tutti ragazzi sono la mamma di mattia che momenti imbarazzanti non ho parlo 3 minuti siamo già guai tanto questo è sempre cambiando anche se è anche simile ragazzi andiamo anche un po' è anche tutto uguale non cambia assolutamente nulla non cambia assolutamente nulla se io tutte le volte che vando avanti vedo sempre se è anche la stessa chino ok che succede no no eh qua forse cambia un po' è sempre uguale ragazzi è sempre uguale guardiamo gli ultimi ragazzi la finiamo qua c'è inutile è uguale ragazzi niente io inizio a ascoltarvi ringrazio per la visione intanto qui vedo che le scende sono anche uguali vi ringrazio per la visione se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci siamo in qua se vi è piaciuto lasciate un pollice in su se non avrete piaciuto lasciate un pollice in giù e che dire allora forse qua abbiamo una svolta no è finito dai ragazzi ok Grazie a tutti